Dai primi sopralluoghi è una parte, diciamo circa un metro quadro, due metri quadri, proprio in fondo all'aula che questi pannelli hanno ceduto, ora stanno valutando quella che è stata la causa, però è una situazione localizzata proprio in quel punto lì. Sono a lavoro anche questa mattina i tecnici dell'ufficio manutenzione della comune di Arezzo per le verifiche del caso dopo il crollo di una porzione di controsoffitto in un'aula di una scuola aretina. È successo martedì mattina il cambio dell'ora alla scuola media Margheritone di Via Tricca, un improvviso avvallamento prontamente segnalato dall'insegnante in quel momento in aula, da qui la decisione di evacuare la classe e poi il cedimento proprio mentre i ragazzi stavano uscendo. Uno studente di terza media è stato così colpito dai frammenti del controsoffitto venuto giù, è stato portato al pronto soccorso dove i medici gli hanno applicato alcuni punti di sutura. Il sindaco di Arezzo per una verifica più approfondita dello stabile ha disposto anche la chiusura preventiva e precauzionale della scuola un solo giorno ma che va ad aggiungersi alle vacanze pasquali. Proprio per evitare che ci siano altre situazioni di difficoltà all'interno della scuola anche, ripeto, da un primo controllo che era stato eseguito proprio ieri non erano emersi situazioni di criticità uguali. Anche perché la tipologia di controsoffitto che era in quell'aula lì in realtà è solo nelle aule del primo piano, quindi nelle aule del piano terra e nelle stanze dei corridoi c'è un altro tipo di struttura che è diversa, non è direttamente ancorata, incollata. La struttura non è in appoggio come quella che è ceduta e quindi già la situazione è limitata alle aule del primo piano. Dai controlli che sono stati fatti nelle altre aule non c'era questa criticità, però ora stanno facendo proprio un controllo proprio tecnico, non solo visivo e quindi stanno valutando bene la situazione, cercando anche di valutare quelle che saranno poi dopo gli interventi che dovremo portare avanti. Tutto questo verrà realizzato in questi giorni di chiusura della scuola in maniera tale da mercoledì che riapriranno le scuole e di avere la scuola aperta chiaramente a tutti gli alunni senza nessuna preclusione. Per i primi controlli sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno posto sotto sequestro l'aula interessata dal crollo di alcuni pannelli del controsoffitto.